Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di metoincalabria.it. Siamo nel vivo di questa poderosa ondata di gelo che sta interessando quasi tutta l'Europa e anche l'Italia. Le temperature sono crollate, soprattutto sul centro nord. Infatti, dopo diversi anni, è ritornata la neve su Roma e Napoli. In queste ore, anche sulla nostra regione, le temperature stanno subendo un forte calo. Favorendo sulla Calabria settentrionale, nevicate a quote relativamente molto basse. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, nubi sparse e più combatte sui versanti terrenici, con deboli piogge e deboli nevicate al di sopra dei 300-400 metri sulla Calabria settentrionale. Oltre 5-600 metri sulla catena costiera e sila. Temperature stazionarie. Mercoledì, generale condizioni di cieli parzialmente nuvolosi senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie. E adesso il concerto sguarda. Mari e venti. Martedì, il martirreno è generalmente mosso, con vendita in direzione settentrionale. Il maione è poco mosso, l'esclusione è dinanzi del cotonese, dove risulterà mosso, con vendita in quadranti settentrionali. Mercoledì, mari generalmente mossi, con vendita in quadranti settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metoincalabria.it, potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meto in Calabria. Per la puntata di oggi è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. 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 Grazie.